Questa è molto antica, guarda i capitelli ancora con motivi zoologici. Lì incrociano le cose, qui c'è la stessa testa, vediamo la stessa testa, vieni a vedere, questo qui è splendido, questo è il saccello dentro, il saccello che c'è, che copre il santo scopo, che hanno scavato e hanno lasciato il basamento dove il corpo di Gesù era stato appoggiato, quindi non c'è la caverna in sé, è rimasto solo il basamento che non è visibile comunque, però effettivamente è fatto così, è fatto uguale. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo dono, venga il tuo re, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre tentazioni, ma li inviaci per noi. Grazie a tutti.